Sei un marito stanco, stanco di sentire sua moglie nelle orecchie che fa zapping tutto il giorno? Sei un rattoso seriale che ti manca tanto, ma davvero tanto, il tuo parchetto? Sei un bimbo minchia e ti sei anche un po' annoiato di stare tutto il giorno alla Playstation? Sei un pensionato a cui baggano veramente assai i propri gandierucci? È tutto un complotto! Basta con questi decreti, basta con queste restrizioni, basta a questo governo che non ci fa uscire e che ci fa sempre chiusi in casa, basta con la quarantena! Covid party 2019-2020! Vieni anche tu e ci infetteremo tutti! Ci divertiremo un sacco! Ai piatti DJ Pandemia! Sul cubo le sorelle influenza! E se porti un tuo amico ad infettarsi, ti daremo in omaggio un lecca lecca da leccare tutti quanti insieme per infettarci ancora meglio! Al party possono accedere soltanto le persone col quoziente intellettivo molto basso, uomini e donne con manie di protagonismo, personalità con delirio di onnipotenza, stupidi, cretini e ignoranti vari. Party Covid 2019-2020! Vieni ad infettarti anche tu! 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 Grazie.